Nel film dell'immanente Tutto è uno attraverso Mario del Giglio guida Quando si dice l'altro non esiste, non intendiamo la personalità umana e tutte quelle componenti e differenziazioni che in essa sono contenute e che dobbiamo accettare, ma non rappresentano il nostro sé spirituale. Sia chiaro che l'altro esiste nella forma umana nel momento in cui sta facendo la sua esperienza e viene rappresentato come una delle immagini nei fotogrammi che abbiamo spiegato cioè fotogrammi visivi e non sentiti. I fotogrammi esistono nella forma visiva e ognuno di noi interiormente ha l'esperienza da fare nel momento in cui viviamo quell'immagine e vi siamo rappresentati. Nel momento in cui la viviamo siamo quell'immagine ma quella stessa immagine fa parte dell'intero film. Naturalmente le varie esperienze restano nella nostra individualità spirituale che è rappresentata dalle varie immagini, dai vari fotogrammi e che nel film dell'immanente e nel trascendente esiste in quanto tutto è.